Un tavolo permanente che si occupi solo della Sevel sarà costituito nelle prossime settimane. E' quanto deciso nell'incontro di ieri tra l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, quello allo sviluppo economico Daniele Damario e le principali sigle sindacali. Sarà un tavolo proiettato al futuro, ha dichiarato Quaresimale, in ragione soprattutto delle sfide del PNRR, della nuova programmazione europea 2021-2027 e della transizione ecologica. Lo stabilimento di Atessa è il sito produttivo più importante d'Abruzzo. Il settore dell'automotive rappresenta il 13% del PIL regionale. La proprietà fa capo alla multinazionale olandese Stellantis, la quale presenterà il nuovo piano strategico il prossimo 1 marzo. L'obiettivo è la creazione di ricavi per 20 miliardi di euro entro il 2030, ha dichiarato l'amministratore delegato Carlos Tavares, traguardo che dovrebbe essere raggiunto tramite software. L'auto del futuro, infatti, avrà più programmi e meno meccanica. Il timore, però, è che si scelga anche la via della delocalizzazione. Stellantis ha aperto uno stabilimento gemello a quello di Atessa, a Givlice, in Polonia, rompendo il monopolio abruzzese della produzione del Ducato. Grazie alla zona economica speciale, infatti, lì fisco e costo della manodopera sono meno onerosi. Inoltre, il settore sconta l'incertezza sul futuro dei motori elettrici e la crisi dei microchip, questioni che si ripercuotono, in maniera allarmante, sulla manodopera. Ad Atessa, di 800 lavoratori cosiddetti somministrati a tempo indeterminato, non sono stati riconfermati in 350 e il numero degli esclusi sembra destinato a crescere nei prossimi mesi. Si tratta della categoria più debole tra i lavoratori Sevel, hanno detto i sindacati. Su questo punto, Quaresimale ha annunciato ai rappresentanti dei lavoratori la costituzione di un altro tavolo regionale, in aggiunta a quello deciso ieri. Dedicato alle problematiche dei lavoratori, ha dichiarato l'assessore, che sono interessati da contratti di somministrazione lavorativa.